Battipagliese è violento agli arresti domiciliari per aver bruciato l'auto della sua ex al culmine di ripetuti maltrattamenti. Per 24 mesi è dovuto convivere con una persona con presunti problemi dovuti all'alcol, altri 12 mesi di persecuzioni e minacce. Per fortuna, però, sono trascorsi solo 8 giorni per arrestare l'uomo che ha dato i tormenti a questa donna battipagliese. Infatti, quando la vittima si è decisa finalmente a sporgere denuncia, supportata dal suo legale l'avvocato Giuseppe Provenza, l'uomo è stato prontamente sottoposto agli arresti dai carabinieri. L'ultimo episodio, l'incendio dell'auto della donna, una Peugeot, avvenuto circa 9 giorni fa vicino alla chiesa di San Gregorio VII. Il raid sarebbe stato eseguito in quanto, secondo l'ex fidanzato geloso, lasciato da un anno, la donna avrebbe una nuova relazione. Per lui ci sono accuse pesanti come maltrattamenti, violenza, persone e cose, stalking e minacce. Gli inquirenti avrebbero raccolto anche tutte le prove con dei testimoni. Le indagini sono state svolte dai carabinieri di battipaglia, coordinati dal maggiore Vita Antonio Sisto, grazie a quanto raccolto dal marescialo Trotta, che si occupa appunto dei codici rossi. I militari hanno indagato a fondo ed in poco più di una settimana hanno concluso l'indagine. Il pubblico ministero ha chiesto l'arresto dell'indagato pochi giorni fa e il GIP Marilena Albarano ha disposto i domiciliari.